Buonasera, un cordiale saluto a tutti i telespettatori edizione del Veneto dei nostri notiziari. Dunque queste erano le principali notizie della giornata. In primo piano il ritorno in Veneto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Due giorni a Venezia per il Capo dello Stato. Prima tappa oggi a Lido, ma proprio per saperne di più ci colleghiamo subito con Nicola Indimioni e Nico Gatto. Buonasera da Venezia e buonasera precisamente dalla Lido, dove nel pomeriggio è arrivato anche questo punto di restituirti la linea. Grazie Nicola, è stato un bel momento, un tempismo perfetto proprio anche per noi di Antena 3. Bene, auguriamo un buon lavoro ancora a Nicola che è rimasto lì. Andiamo avanti con la politica. Primi messaggi della politica in vista appunto dei prossimi appuntamenti elettorali. il PDL lancia un avvertimento alla Lega, ma anche al centro-sinistra, pensando al nuovo governatore del Veneto, vista la diffidenza, l'iniziativa di Flavio Tosi che si candida a diventare appunto leader del centro-destra. Tutti i dettagli allora. E scelta civica da Movimento Diventa Partito. Il battesimo sarà a Caorle nel Veneziano nel prossimo fine settimana e con la prima festa civica nazionale presenti il leader Mario Monti e il presidente del Consiglio Enrico Letta. Il neopartito è dunque punta alle regionali del 2015 e alle comunali di Padova del prossimo anno. Il punto allora. Momenti di paura per l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso, colto da un infarto nella notte mentre si trovava nella sua abitazione di Favaro Veneto. Fortissimi dolori al petto, Luano Mestrino, ed è considerato fuori pericolo. Da vita ai tuoi sogni. Questo è il titolo del nuovo libro di Marina Salamono, presentato ieri a Palazzo Giacomelli, sede di un'industria a Treviso. Una ventata di ottimismo, pensiero positivo, indispensabili per fare impresa e per appunto uscire dalla crisi, ma anche per costruirsi una vita e una famiglia. Sentite l'intervista. Il Consiglio Provinciale di Trento ha detto sì al passaggio di Taibon a Gordino, alla provincia autonoma trentina. Un evento storico, commentano i promotori del referendum, e infatti è una risposta positiva di Trento e i comuni che hanno tentato il passaggio di regione. I dettagli. A proposito di Bellunesi, a poche ore dal grande concerto sul ponte degli Alpini, si affina la macchina della sicurezza. Le forze dell'ordine saranno impegnate in controlli sul ponte. nelle vicinanze, mentre verranno potenziati i controlli con l'etilometro a fine festa. Guardate l'anticipazione intanto. Dunque questa è l'anticipazione della festa delle penne nere a Belluno, adesso invece la pubblicità. Tra poco in studio. Adesso proseguiamo con il nostro telegiornale. Vi ricordo l'edizione regionale. Esordio col botto per l'On Festival, 18 mila persone ieri sera per l'avvio della manifestazione rock in Piazza della Dogana. Stasera serata reg, poi domani l'arrivo di Pistoletto. Guardate. E vi ricordiamo che le notizie di Antena 3 News sono anche online. Potete trovare l'ultima ora della giornata e gli aggiornamenti in tempo reale. Diamo quindi un'occhiata anche al nostro sito, al re esternale. Non ci sono altre notizie. Potete naturalmente consultare il nostro sito per averne altre. Adesso vi lascio un compagnia del meteo e vi auguro una buona serata. Arrivederci a tutti.